Cinque negozi chiusi in appena un anno. Basterebbe questo dato per capire in che disperata situazione vive l'area attorno al piazzale Primo Maggio, punto di collegamento tra il centro storico e la zona mare. A lamentare il degrado che negli ultimi anni è cresciuto in questa parte di Pesaro, ci sono non solo i cittadini, esausti del traffico poco controllato di una piazza che mostra carenze di illuminazione di verde, ma anche i commercianti che non vedono più nell'area il potenziale economico che per posizione dovrebbe far fruttare. La mentele è raccolta anche dal coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia, così come dai consiglieri della lista Ascoltiamo Pesaro. Le segnalazioni sono diverse dal manto stradale alla piazza, al verde e al fatto che questa zona è un congiuntamento tra quello che è mare e centro ed è l'unico punto dove auto possono passare, mentre a differenza dell'altra zona del centro storico sono tutte in ZTL. Quindi questo fa sì che essendoci un grosso traffico anche quelle che sono le attività commerciali ne soffrono. C'è carenza di parcheggi, questa confusione porta a segnalazioni all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale ad oggi ancora risposte non ne ha date. Siccome le risposte non sono arrivate, il 22 giugno del 2021, questa è la data precisa, il Consiglio di quartiere si è riunito e ha deciso che quello che naturalmente l'amministrazione comunale tutti gli anni dà al quartiere per poter fare opere, destinare queste cose per organizzare cose di fine anno per ravvivare un pochettino il quartiere. Ha preso questi pochi soldi e li ha destinati a cercare di fare quelle opere che l'amministrazione comunale non ha fatto. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare per bene e hanno fatto poco, però qualcosa hanno fatto. Il manto stradale è stato rivisto in qualche cosa, le piante sono state bene o male potate, c'è stata fatta un po' di pulizia, sono stati creati dei passaggi anche per i disabili da uscire da marciapiedi o meno, però questo è pochissimo per poter fare questo. A marcare la mancata cura che vive attorno all'area di Piazzale Primo Maggio ci pensa anche l'ex carcere giovanile che si è presente in una condizione di completo deterioramento, stabile per il quale il sindaco Ricci circa due anni fa annunciava un accordo con la provincia per riqualificare il fabbricato. Il sindaco Matteo Ricci il 28 aprile del 2021 annunciava con un accordo che c'era stato un accordo con la provincia a trasformare il fabbricato in una scuola legata alle arti e alla creatività. Allora, ecco, questa qui, quello che noi sappiamo ancora non è, diciamo così, non sappiamo nulla di questo. Naturalmente questo sarebbe di gran cosa per tutta questa zona, perché naturalmente la situazione che è da anni fermo, quindi questo stabile è comunque invecchiato, quindi si ritrovassi con uno stabile nuovo, con un'idea nuova di questo piazzale potrebbe ravvivare quello che, diciamo così, i residenti chiedono.